Svedi anche FIDA contro AKALI Oh cazzo Ecco prendiamo AKALI la prossima volta Eh eh io la vorrei provare in effetti la nuova AKALI Non l'ho ancora fatta Io ancora non l'ho provata mai vediamo com'è Eh nemmeno io Black Bacardi No è forte invece eh Molto forte Rompe molto i coglioni Si ma è slide, sa giocare su AK E basta Ah ma intanto la so giocare Vado a PCR C'è gente che non la sa giocare Io non la so giocare su AK Però so giocare tutto il resto Vabbè non importa Dedicando la mia vita a giocarne uno A giocarlo bene Ah ok ecco C'è hanno tutti il teleport No Vabbè tranne uno Eh eh Vuol dire eh Vuol dire che quello va mid E gli altri Ehm no Non è vero Io e te andiamo in top Dai io voglio urf Io parlavo di AKALI non di noi Si lo so anch'io Vabbè ma tanto questa è persa Ah lo so Come fai con Malzar A C'è O sono dei trogloditi Che non la sanno giocare proprio zero No Malzar Beh uno contro uno forse vince Uno contro uno Oddio Si Si Prende Ho detto forse io Ho detto forse io Non so come iniziamo Chi è quello Benvenuti nella landa degli evocatori Eccomi 30 secondi alla generazione Un 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 Ha cambiato anche Malzar No sei tu che c'è la skin wielva Vodopia non era una pozza scusami No la pozza Ma la pozza è la ultima pozza No Ah aspetta ah lui la PlayStationo E 17 Eh la madonna quanto tempo fa l'hanno cambiato La pozza è un 15 anni fa ce l'aveva Io lo giocavo gli Stani fallo c'è che via via la maggiore il cazzo è che non usi maggiore si una volta aveva la bozza tipo morgana dai dai abbiamo già vinto io che non ho più male la sta usando non vedi posso fare veloce o veloce? a te la scelta impressione fino a quando non facciamo il livello 6 dio porco eccolo il campione io manzar non lo voglio usare fa schifo per un motivo ma è meglio di voi la E ti ripristi no la pure ripristi nella E la bevi? ah wow utile non ho mai mana contro lei qui uno col mana perde con uno che ha energie stronzate varie via cane incanterabile dentro quella stronzatina la guardo ok ora non guardo no ma non che ho Ah io non so neanche le morte che mostro qua, Akali vedrai che è la nuova per lo meno E' troppo forte perché se entra dentro la nube non la puoi toccare, neanche la torre gli fa danno E' un tempo gli aumentava, un tempo aumentava soltanto l'armatura e resistenza magica Ho capito Queste lame qui che vedono per terra? Quella lì che hai lanciato prima Guarda qua, quella lì Quella è l'ulti? No, quella è l'ulti Minchia E quindi ti salto perché è una skill normale, non è più l'ulti E' come se tu fossi la luna No, ce l'ha sempre quella luna Ah ce l'ha sempre La Q di quella vecchia, te la ricordi che ti lancia la lama? Sì Esatto, l'hanno modificata, adesso ti lancia la lama e poi ripreme e ti salta a do come se fosse un leasing La madonna Cioè è più meccaniche però è troppo forte E quindi l'ultima da fa Cioè quindi ha due skill adesso per saltare adotto? Ah non c'è andare, non c'è andare Ha due skill per saltare adotto? Vieni a giocare in mid, uno contro uno è impossibile Eh mo Eh mo, vieni a provare Cioè lei qui entra Guarda se ti salta addosso Se vedi che ti salta addosso fai la Q su di te Così quando arriva su di te si trova di te Guarda qua, ma non è possibile Chi era quello che non voleva? Dio cane Dic di merda sempre Ma chi l'ha voluto, ma alza Dio cane, dio porco Chi era quello che sapeva giocare tu ci? Eh contro l'alcrim non c'è mai giocato Stai zitta te che siete in due per quello vincere Ma noi siamo contro due comunque Eh sì ma con due è un po' più difficile Perché se uno di loro mi salta addosso Cazza fa quell'altro Sì ma uno lo stunnate con la ulti Quell'altro lo stunnate pure con la ulti Questo stunnare un pochino di meno Questi qua magari Spero che non sono cazzini Dio porco ho beccato il migliore del team io Forse è beccato quello che l'ha selezionato Eh ma non è possibile giocare contro lui qui C'è un'altra posizione la sopra Anche quello boss è buono c'è recupera vita ma che c'è un po' di merda io la E la E, la W1, fa un cazzo come no? guarda qua, ma mi dive pure si vabbè non è possibile all'inizio faceva quel cazzo che gli pareva perché la gente deve scegliere i pick? comunque io non faccio un cazzo ma secondo me hai sbagliato perché maxi la W1? no, ma io sbagliato rune non lo fa la E lo fa la E? no, ho sbagliato rune guardaci merda, quelle da D chiuse di piccoli durano 8 secondi e fanno 12 di danno più quelli la E fa 185 più 60 danni per 4 secondi quando la E uccide un bersaglio si passa su un dai dai le creature vuoto imprigono in 300% di danni ai minion e le creature invece in 50% no, non è un cazzo allora ma ne ha più vabbè che picchi di merda Malzar perché non dovevo prendere 5 Malzar ha diveato, ha diveato e non... vabbè loro hanno regolato più volte quindi adesso hanno più danno di noi eh sì non è un baraginio 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 magari non poterei vabbè qualcosa vai dai no aspetta mi mancano ancora centrarmi cambierai il gioco perché non è possibile che la gente selezioni fin di merda e non barga guarda me la mid è andata in botta ha preso 2 kill easy chi è quella con 6-0? ce lo credo ne ha presa adesso 2 kill eh non è che sia Erd ne aveva anche prima se c'è più stupidità non c'è nessuno è qua quella è qua come faccio ad andarmi? saltano anche se stai sotto torre no, cioè ti uccidono eh quella sì è venuta no ma tutti cioè se mettono la nube la torre non gli fa niente sotto come fai a giocarci contro? perché non l'hanno bannata? mi stanno venendo qui alle spalle eh comunque ah tanto posso far fuoco sono qua sì sono lì in giù è arrivata sì sono lì in giù non è all'altra di giù non èziękuję è arrivata non è all' Jewel non è giudicato è arrivata è arrivata Non ho capito il perché Sa giocare, quella è mid E panzi Come si chiama Allora gli ferò per i coglioni Ah Merda Non potevo beccare io quello scarso del team Eccola No, me ne ha fatta giusto una Mi ha tolto Sono morto Vero Sottore, ma mi ha stoppato la ulti Il fumo Ha messo il fumo, il fumo si è allargato Quello lì è neanche l'altro che sa giocare Sì, ce ne sono due Uno è 8-1 e l'altro 5-2 Quelli in top fanno cagare al cazzo Quell'altro in bot è mediocre Che c'è che schifo Non c'è Non T'è Gruppo perchè abbiamo le ulti, i silence, però se loro entrano Si vabbè però, devi prendere un campione che sia forte in solitaria e in team E' forte Merda tutti i ragnettini I ragnettini attaccano se tu gli metti la E quindi prima maxi la E poi i ragnettini Deo ma cos'è? Donate i ragnettini, più skill lanciate più su più ragnetti Guarda che le finisco di... no non è vero Mamma mia non ci credo perché non ci abbiamo camminato È un picchi di merda comunque malza Beh ma se siamo di nuovo in team vinciamo eh C***o è devastato tutto Tanto loro devono pushare All top, ecco cosa vogliono fare questi Io non avevo proprio mana per fare nient'altro Se avessi avuto un'altra... Dai tutti i bot come dice lui Beh sarebbe meglio top perché ci sono i loro due E poi è uguale, è uguale Non siamo... ecco, già uno va top E uno c'è, allora uno... Eh, ce la pushano Vedi Sì Allora abbiamo detto sopra, sotto, vabbò Vai pusha però non lo seguire Non lo seguire! Non lo seguire! Non lo seguire Siamo senza tempo Siamo senza tempo Non lo seguire Non lo seguire Non lo seguire Va bene Oh, secondo me ce lo facciamo il Baron Che partita di merda Ma sì, perché in team spaccavamo veramente i culi